L'associazione Salva Mamme mette in campo nuove iniziative in favore della maternità, ed è proprio la maternità nella capitale nel Lazio, il filo conduttore dell'evento patrocinato dal Consiglio regionale del Lazio che si è tenuto nell'aulamagna dell'ospedale San Camillo. 4.000 le mamme, 6.000 i bambini sostenuti dall'associazione nel nostro territorio. Serve una sinergia tra no profit e sforzo istituzionale per combattere le nuove situazioni di disagio, ha dichiarato Isabella Rauti, membro dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio, annunciando un finanziamento di 4 milioni di euro per facilitare il rientro al lavoro delle donne che hanno soffruito di congedo per maternità.